Circa 1.200 sanzioni elevate per infrazioni varie al codice della strada, 33 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali, 43 attività commerciali controllate, di cui 41 delle quali non godevano delle relative autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico. Questa nella sintesi dell'attività svolta dal comando di polizia locale a distanza di due mesi dall'insediamento del neocomandante di polizia municipale, il colonnello Domenico Martino. Abbiamo elevato circa 1.200 verbali al codice della strada, abbiamo comunque fatto diversi controlli in campo ambientale, tant'è vero, ci sono state quasi 33 deferimenti all'autorità giudiziaria. Abbiamo portato anche dei controlli per quanto riguarda la legalità delle occupazioni abusive di suolo pubblico, controllate oltre 43 attività commerciali, di cui 41 erano tutte senza autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico. Abbiamo emesso delle diffide al ripristino dello stato dei luoghi e a portare proprio quella legalità che un paese civile dovrebbe avere. Il colonnello Domenico Martino, 39 anni, originario di Pomarico in provincia di Matera, incaricato a tempo pieno e determinato per tre anni dal sindaco Fabio Rocuzzo e quindi il nuovo comandante della polizia locale. Lo stesso è subentrato dopo l'avvenuto congedo al comandante uscente Renzo Germana, che dallo scorso 1 marzo ha lasciato le redini del comando. Controlli estesi anche al mercato settimanale del sabato, dove sono stati sequestrati circa 200 maglie e 100 paia di scarpe con marchio contraffatto. Inoltre la nostra attenzione è stata proprio anche su quanto riguarda il commercio ambulante, sulle attività commerciali, perché ritengo che sia fondamentale il controllo in ambito proprio alimentare per dare anche una tutela a tutti quei consumatori. Nell'ambito di questi controlli abbiamo anche effettuato due sequestri penali per quanto riguarda la merce contraffatta. Infatti sono stati sequestrati oltre 200 maglie e un paia di scarpe. Questa attività è stata fatta proprio per la tutela, ripeto, del consumatore. Il neocomandante che è stato già a capo dei comandi di polizia locale in diversi comuni di Calabria, Basilicata e Puglia, tra cui Rosarno, Gioia Tauro, Alberobello, Lago Negro, Bietridi, Potenze e Pomari, si pone altri obiettivi da raggiungere. Relativamente al rispetto delle norme legate al codice della strada, preannuncia di già che saranno effettuati controlli severi con macchine civetta per chi usa dispositivi elettronici o telefoni cellulari alla guida, ma anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei caschi per motocicli e ciclomotori. Altri controlli mirati saranno per verificare il... Noi andremo a fare con dei servizi mirati, anche con delle autocivette e quindi faremo questi controlli e fermeremo tutti quegli automobilisti che nel momento della guida hanno un apparecchio in mano e quindi andare a contestare tutte queste violazioni affinché possano capire che l'utilizzo del telefono alla guida non deve assolutamente avvenire per la sicurezza sia loro ma anche di altri conducenti, ma soprattutto di altri utenti della strada, anche di altri utenti deboli, magari una distrazione al telefonino potrebbe portare a degli incidenti stradali come nel caso si sono già verificati ultimamente. Quindi sarà questo il mio obiettivo, rafforzare questi controlli per verificare sia l'uso del casco, delle cinture e il non utilizzo del telefono cellulare e di altri apparecchi alla guida. Grazie per la visione!